Tere spettatori ben ritrovati con l'informazione di Terediogene, ci vorrà la fine della prossima settimana per completare il conteggio dei voti di preferenza assegnati alle liste e ai candidati al Consiglio Comunale di Crotone, sentiamo. Ci vorrà la settimana prossima per sapere chi è eletto in Consiglio Comunale dopo il ballottaggio tra i due candidati a sindaco. Siamo qui al Tribunale dove la Commissione Centrale sta lavorando, continua a lavorare, al momento sono le 12 e mezza, siamo arrivati a nove liste su 25, il conteggio dei voti assegnate a nove liste su 25, la nona si sta facendo oggi. Qual è la questione che rinvia tutta la settimana prossima? Venerdì prossimo si dovranno stoppare i lavori, consentire il ballottaggio e quindi saranno ripresi dopo martedì, il martedì, quindi ci vorrà ancora tempo per sapere gli eletti in Consiglio Comunale. E restiamo in tema elezioni in vista del ballottaggio di domenica prossima 19 giugno in cui si capirà chi sarà il prossimo sindaco di Crotone tra Ugo Pugliese e Rosanna Barbieri, nonostante ufficialmente non ci siano apparentamenti, si lavora per le alleanze. Ultimi giorni per lanciare l'adesione ad un candidato all'altro. Ormai sono scaduti i termini per fare l'apparentamento, ma si può fare l'accordo politico tra i due candidati che sono andati al ballottaggio e tra i candidati o liste di candidati che al ballottaggio non ci sono andati. Ufficialmente fino a questo momento sono due i candidati che si sono schierati per l'uno o per l'altro. Pietro Infusino che ha dichiarato di votare per il ballottaggio Pugliese, Ugo Pugliese, e l'avvocato Ottavio Tesoriere che invece ha dichiarato di votare per Rosanna Barbieri. 5 Stelle ovviamente non si schiererà la posizione nazionale di questo movimento. Si aspetta lo schieramento da parte di Argentini Piuma e delle sue liste. Ancora ufficialmente non si sa nulla quello che farà Piuma o quello che faranno le sue liste. Di sicuro ieri c'è stato il senatore Piero Aiello a Crotone e il senatore di riferimento della lista Crotone da vivere che aveva appoggiato la candidatura a sindaco di Argentini Piuma. Bene, si sono visti i rappresentanti di questa lista, si sono visti in un noto locale cittadino, hanno cenato e dalla discussione Aiello sembrerebbe che abbia detto che l'orientamento è quello di votare Barbieri. Quindi questa lista ancora non è ufficiale ma penso che sarà reso ufficiale quanto prima, questa lista ha deciso di modo proprio di appoggiare Barbieri perché hanno fatto il punto con il loro riferimento nazionale che è il senatore Piero Aiello del nuovo centrodestra. Il resto delle liste. Secondo quello che è stato possibile da prendere ci sono stati incontri anche con i candidati locali, Argentini Piuma e gli altri, ma pare che ci siano stati anche incontri con i livelli regionali, con i livelli che governano la regione Calabria. Pare che ci sia stato un incontro, ma ve lo diamo col beneficio dell'inventario, non abbiamo la certezza su questo, mentre sappiamo certa la riunione in un locale cittadino, un ristorante cittadino di Piero Aiello con la sua lista, questo ve lo diamo col beneficio dell'inventario. Pare che ci sia stato un incontro tra Mario Oliverio, Presidente della Giunta regionale, e lo stesso Argentini Piuma e qualche altro rappresentante della lista. Si è riunita la Giunta regionale della Calabria, presieduta da Mario Oliverio. Vediamo alcuni dei punti approvati. Su proposta del Presidente Oliverio è stata fatta la presa adatto della rimodulazione del piano finanziario del Fondo europeo per la pesca. È stato approvato il piano di azione e coesione scheda anticiclica numero 2, misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione politica e attiva del lavoro, collegate anche ad ammortizzatori sociali in deroga con l'integrazione dell'elenco relativo agli interventi. È stato approvato un disegno di legge su disposizioni in materia di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione e ulteriori disposizioni relative alla dirigenza. È stato approvato il progetto AIB 2016 di Calabria Verde nell'ambito del piano attuativo di forestazione per l'anno in corso. Su proposta dell'assessore al bilancio Antonio Viscomi è stato approvato tra l'altro il bilancio di previsione 2016-2018 dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Regione Calabria, che ora passa all'esame del Consiglio. Su proposta dell'assessore al lavoro Federico Roccisano ha approvato l'atto di indirizzo per la contrattualizzazione LSU e LPU a tempo determinato rimasti in utilizzo nell'anno 2015 presso gli enti pubblici della Regione. Ha approvato il piano per il diritto allo studio, ha approvato una serie di modalità attuative per corsi di formazione teorica, aventi come obiettivo l'abilitazione all'esercizio delle relative attività professionali. Su proposta dell'assessore alle infrastrutture Roberto Musumanno sono state approvate le procedure applicative per la riscossione dei crediti immaturati dalle Regioni per la somministrazione di acqua per uso idropotabile periodo 1981-2004 relativamente ai comuni debitori e riequilibrio finanziario pluriannale. Report sulla situazione delle imprese crotonesi in attesa della presentazione di Polos 2015 che sarebbe dovuta tenersi oggi ma che per motivi tecnici è eslittata. Di questo altro parliamo con il Presidente della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese. Presidente della Camera di Commercio di Crotone parliamo di imprese. Stavamo lì per presentare il rapporto Polos che ogni anno la Camera di Commercio prepara per dare il plastico della situazione delle imprese crotonese. Hanno avuto un problema tecnico, viene rinviato però la situazione delle imprese la conosciamo. Qual è? Polos è uno strumento di eccellenza per quanto riguarda i dici bene un plastico che è una fotografia di quello che accade sotto l'aspetto economico nel nostro territorio, soprattutto sotto l'aspetto della salute, quindi il termometro economico di quello che accade per le imprese e per il circuito economico che ci gira intorno, soprattutto legato alle infrastrutture. Parliamo del 2015, com'è la situazione delle imprese di Crotone? 2015 è una situazione che ha ancora imprese che hanno ancora la febbre, è una situazione in cui le imprese hanno delle difficoltà ma questo di conseguenza rispetto alla situazione economica generale. Però di positivo che cosa accade? Accade che abbiamo una serie di imprese che hanno cominciato a strutturarsi meglio sul mercato, quindi un timido accenno a una migliore organizzazione sotto l'aspetto organizzativo delle imprese ama anche la trasformazione perché abbiamo un timido ma importante segnale di aumento di imprese sotto forma di società di capitali. Quindi c'è un migliore rafforzamento di questo tipo di imprese rispetto al numero delle imprese iscritte in registro di imprese. C'è una domanda semplice, si parla di una piccola ripresa nel paese, questa ripresa è avvertita pure a Crotone o no? Questa ripresa è avvertita a Crotone in determinati settori e appunto stavo per dire proprio questo che quelle imprese che sono riuscite ad innovare, quelle imprese che sono riuscite ad intercettare i mercati extra regionali, extra provinciali e internazionali sono quelle imprese che sono riuscite a vincere la sfida perché sono quelle imprese che sono riuscite a proporsi su mercati appunto diversi rispetto all'ambito territoriale in cui queste hanno la propria ragione sociale e la propria attività principale. Quindi queste sono quelle imprese, soprattutto sono imprese del settore agroalimentare, sono le imprese dei servizi, sono le imprese del turismo ma sono anche quelle piccole imprese fatte dai giovani che hanno saputo creare innovazione all'interno del processo produttivo e della propria impresa. Quindi il futuro non è nero? Diciamo che qualche spiraglio c'è per Crotone e la sua provincia? È chiaro che in momenti di difficoltà economica ognuno deve reinventarsi o riorganizzare la propria impresa e quindi è in questi momenti che bisogna mettercela tutta, in questi momenti che bisogna resistere e le istituzioni devono sempre di più accompagnare questo tipo di aziende, questo tipo di attività imprenditoriali che comunque esportano le eccellenze e il buon operato delle aziende appunto nostre locali della provincia di Crotone ma calabresi in generale. Senta, una domanda è d'obbligo. C'è, diciamo che lo studio sulle imprese la fa la Camera di Commercio, il ruolo della Camera di Commercio è anche altro, molto importante per la vita stessa delle imprese. Viene messo in discussione ora. C'è Catanzaro che vorrebbe cancellare la Camera di Commercio di Crotone e di Vibbo. A che punto è questa avvertenza? Allora, per quanto riguarda il nostro ricorso al Tare che abbiamo fatto per rivendicare le nostre giuste osservazioni è stato rispinto dal Tare. Noi stiamo volutando insieme al Presidente della Camera di Commercio di Vibbo di fare ricorso al Consiglio di Stato. Però prima ancora di affrontare quest'altra avventura legale che chiaramente ci vede uniti e soprattutto ci vede pronti a rivendicare quelle giuste nostre osservazioni per quanto riguarda la rivendicazione di una rappresentanza territoriale e anche la presenza forte sul territorio di queste istituzioni che nel corso di questi venti anni hanno dato tanto all'economia dei territori di Crotone e di Vibbo. Allora, noi comunque in questo momento stiamo andando avanti per quanto riguarda la salda ordinare del rinnovo che la procedura chiaramente si è sbloccata e quindi sta andando avanti. Però nello stesso tempo stiamo pensando in maniera strategica e chiaramente con accordi con i colleghi di Vibbo quale future azioni mettere in campo per rivendicare appunto le nostre istanze. L'autonomia che poi questa è la vostra istanza. Ma più che autonomia diventa una giusta rappresentanza di quelle che sono le necessità di un territorio e sicuramente questi territori che hanno delle grosse difficoltà strutturali, economiche, sociali e politiche necessitano della presenza proprio fisica di queste infrastrutture oltre che chiaramente della rappresentanza politica che deve rivendicare e far sì che nelle politiche generali di un'unica Camera di Commercio che riguarda tre territori vengono salvaguardate le politiche di questi territori che hanno necessità di essere accompagnati a un virtuoso processo di sviluppo. La Congesi, il nuovo Consorzio di dieci comuni del Crotonese per la gestione del servizio idrico integrato, ha già assunto i primi 17 lavoratori. Partono le prime assunzioni per la Congesi, il Consorzio dei Comuni che dovrà gestire il sistema idrico dell'acqua. Al momento ricordiamo che sono dieci comuni, compreso quello della città capoluogo, che hanno aderito a questo Consorzio. Sono stati assunti i primi 17 lavoratori. Nei prossimi giorni saranno assunti altri 13 e si arriverà subito 30, che è il minimo per incominciare a svolgere le attività di controllo, di gestione delle acque, di tutto il sistema idrico, compreso la depurazione. Per diventare operativo a questo punto manca solo la Convenzione. sottoscrivere la Convenzione con la quale i comuni assegnano al Consorzio la gestione del sistema idrico integrato. La Convenzione è stata già, come dire, formulata da parte della società e è stata portata al dirigente del Comune da qualche giorno. Il dirigente adesso dovrà dire se va bene o non va bene. Quindi nell'arco di poco tempo il Consorzio dovrebbe diventare operativo. E' importante che lo diventi subito per la situazione che abbiamo nei nostri comuni con l'arrivo del caldo. Tra due giorni arriveranno temperature di gran lunga superiore ai 30 gradi, saremo in piena estate e quando arriva l'estate sono dolori. Quindi è bene che ci sia una società che gestisca per conto dei comuni che non sono attrezzati a farlo perché se dovesse scoppiare le fogne sul lungomare il Comune dovrebbe fare riferimento ad una società esterna, non ha i mezzi propri e quindi spenderebbe più soldi. E' più giusto, visto che ci sono le competenze, che lo faccia la Coggesi. Tre anni per la violazione di sigillie, la pena inflitta dal giudice del Tribunale di Bologna a carico di Federico Camigliano Ventino Verne, originario del Crotonese e titolare di una SRL che lavorava in subappauti in un cantiere collegato ai lavori per la variante di valico a Castiglione dei Pepoli sull'Appennino. Il sequestro era stato disposto perché erano state accertate gravi violazioni sulla sicurezza degli impianti elettrici. Sono in corso attività di restauro e recupero archeologico in Piazza Immacolata a Crotone. Vediamo. Interventi di riqualificazione anche per i monumenti antichi. Quello che vedete lì, siamo in Piazza Immacolata, sono i resti della cinta muraria più antica della città di Crotone, non quella magna greca, ma risalenti al VI secolo. Mentre l'altro intervento, l'altro, sulla destra dove ci sono quei lavoratori, sono i resti di una casa bombardata durante la Prima Guerra Mondiale. Oltre a queste mura, quelli della casa e questi della città del VI secolo, oltre a questi ci sono anche scavali archeologici. È bello. Pensate quanto è importante Crotone, quante tesori ha nascosti. Probabilmente nemmeno i crotonesi lo sappiamo e non ci rendiamo conto che il nostro futuro e questo, e la cultura, sono i resti che rappresentano la nostra storia. Perché Crotone ha una storia, ha una storia millenaria, una storia importante, che solo i crotonesi non capiscono. Non capiscono perché questi resti, prima di questo intervento che stanno facendo, ci sono due tipi di interventi, prima di questo intervento lo utilizzavano per buttarci la spazzatura. Solo i crotonesi non comprendiamo la nostra storia, la bellezza dei monumenti che abbiamo, dei resti che abbiamo. localmente discreta, mare molto mosso, tendenza. Vento da sud ovest, forse sei, è poco nuvoloso. Bene, per oggi la nostra informazione è terminata. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci alle prossime edizioni.